nell'episodio precedente Skyro, ho saputo che stai cercando informazioni su un principe da Ederico vienimi a trovare alla locanda di Falkrit questa città è stata attaccata da uno spietato gruppo di Draugr che sta uccidendo e torturando i cittadini torna indietro finché sei in tempo eccoci qui alla locanda aspetta un attimo chi siete voi? che cosa state facendo? fermi! aiuto! qualcuno mi aiuti! aiuti! ah, ho sentito una perturbazione nella danza devo intervenire ah, che cosa mi avete fatto? semplice, visto che ti dimenavi ti abbiamo colpito con una spada avvelenata ovviamente era un veleno temporaneo volevamo farti un paio di domande prima di ucciderti chi siete? e che cosa volete da me? non sai chi siamo? povero illuso, non ti hanno detto tutta la verità, vero? la danza che conosci non è l'unico tipo Danzul non ti ha parlato del lato oscuro della danza? noi siamo i cultisti oscuri e che ti piaccia o no riporteremo in questo mondo il profeta oscuro riporteremo in vita il lato oscuro della danza il tuo profeta invece è già stato sistemato per le feste centinaia di anni fa e ora, per evitare che ci intralci il prossimo ad essere sistemato sarai tu bastardi! siate maledetti! bene, visto che ne sai poco mi sembra inutile farti domande di dunque le tue ultime parole fermi! vediamo di risolvere questa faccenda come i nostri antenati io e il ragazzo contro voi due nell'arte della danza grazie a tutti i nostri antenati grazie! grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Ce ne sono tanti come loro e purtroppo ci stanno riuscendo. Stanno apparendo segni evidenti del ritorno del profeta oscuro della danza. Gli emissari oscuri stanno tornando. Chi sono gli emissari oscuri? Gli emissari oscuri sono i diretti sottoposti al profeta oscuro. Possiedono un potere della danza immenso e batterli è praticamente impossibile. Spera di non trovartene mai uno davanti. Essi si presentano sotto la forma di quelli che conosci come draghi. A volte però, per rendere il loro tipo di danza comprensibile a noi, assumono una forma umana. Tuttavia è inutile provare anche solo a pensare di batterli. Aspetta un attimo. Che cos'è questo suono? Merda. Che cos'è questo suono? Grazie a tutti. Grazie a tutti.